Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi 2 giugno, festa della Repubblica. Quali sono le posizioni dei giornali sul governo Conte che ha giurato ieri? Ci sono delle alleanze strane, così come questa alleanza governativa tra Lega e Movimento 5 Stelle che oggi a tutti quanti sembra normale, basti pensare durante la campagna elettorale cosa è stata invece la battaglia tra Centro e Destra e Movimento 5 Stelle, tutti la danno per l'ormale ma così non è obiettivamente. Allora anche i giornali si trovano in una situazione piuttosto imbarazzante. Il giornale di Berlusconi, come viene chiamato dall'opposizione, il giornale nuovo, è contrario a questo governo e nota giustamente con Sallusti, con un titolo un po' strano dal punto di vista dell'italiano, lo spergiuramento. Beh, insomma, obiettivamente lo spergiuramento nasce da una considerazione molto semplice e molto fattuale. Vi ricordate durante la campagna elettorale, io per esempio non me lo ricordavo, ma invece Sallusti se lo ricorda bene quando il centrodestra Salvini e la Meloni avevano chiesto a Berlusconi di firmare da un notaio, da un notaio che avrebbero blindato la loro alleanza. Ma ve lo ricordate? Perché avevano paura che Berlusconi avesse fatto un'alleanza con il PD di Renzi. Al contrario cosa succede? Che gli eletti, anche con i voti di Berlusconi, che forse stanno diminuendo, ma gli eletti anche con i voti di Berlusconi invece stanno facendo l'alleanza con Di Maio, Lalezzi, Fico, Di Battista, Beppe Grillo, quello che ci considera tutti noi delle merde. Benissimo. Lo spergiuramento è il titolo interessante, anche se non bellissimo dal punto di vista lessicale, del giornale così spiegato da Sallusti. L'alleanza di cui vi parlavo è che il giornale di Sallusti si trova in perfetta linea con il giornale di De Benedetti, cioè, scusatemi la Repubblica, pensare che De Benedetti e Berlusconi siano uniti in questa critica al governo, a quelli del Movimento 5 Stelle, la Lega deve far godere, perché dirà, vedi l'establishment è contro di noi, con il piccolo dettaglio che una parte di quello establishment era candidato con Salvini e ha reso Salvini, insomma, suo partner. Funerale della Repubblica invece è il titolo di Feltri, sul libero, anche se poi andando a guardare bene, a scartabellare quello che dice Feltri, non è così critico come lo è Sallusti. Salvini fa discutere, nel titolo forse oggi più divertente di tutti, il manifesto, che è di ruspa e di governo, perché quando vedi quel governo con Mattarella, i sei tecnici, Moavero milanesi, la buongiorno, che cosa ci è capitato, la buongiorno, tra tutti i montiani, la buongiorno era montiana, Moavero milanesi era capo di gabinetto di Monti quando era commissario europeo. Beh, insomma, quando vedi questa foto di Palazzo Chigi con il tavolo dei ministri, beh, in fondo ti viene come il manifesto di dire che erano quelli delle ruspe, ma sono anche quelli del governo. Vedremo quasi prevarrà le ruspe o il governo. Calabresi, su questo, su Repubblica, è furibondo, furibondo, perché dice abbiamo messo Dracula, l'Avis, cioè abbiamo messo il ministro degli interni, Salvini, che vuole cacciare gli immigrati. Cosa, secondo me, buona e giusta, perché non si tratta di cacciare gli immigrati, si tratta di cacciare i clandestini, che sono due cose diverse. In qualsiasi paese del mondo i clandestini vengono cacciati, in qualsiasi parte del mondo gli immigrati vengono regolati, va bene? Quindi mettere uno che dice queste cose al ministro degli interni non mi sembra una cosa assurda, ma comunque Calabresi la considera una cosa assurda, ben per lui. Il fatto è preoccupato, Salvini si allarga, e questo è forse un altro dei lati che dovremmo affrontare in questo governo nel futuro, e cioè chi peserà di più, Salvini o Di Maio, la componente leghista o la componente del Movimento 5 Stelle. Oggi tutti i giornali, i borghesi, per bene e politicamente corretti, se la prendono con Fontana, ministro della famiglia, che sostanzialmente dice che le famiglie gay non esistono, ha una posizione conservatrice sulla famiglia, e ovviamente questo è completamente contro tutto il pensiero dei diritti civili, non solo della sinistra, ma anche di una larga parte del Movimento 5 Stelle, che di fatti questa cosa qua non gli va. Chi prevarrà l'antisviluppismo del Movimento 5 Stelle, o la rigidità conservatrice neocon si definirebbe della Movimento 5 Stelle? Insomma, questo bisogna verificarla. Travaglio oggi che cosa fa? Fa una cosa straordinaria, e quando vedete questo articolo è una cartina di tornasole. Di chi parla, Travaglio, del governo che si è formato, delle contraddizioni che ci possono essere, dei rischi che ci possono essere, invece delle cose positive che può fare se vuoi essere un fan di questo governo, se vuoi dire finalmente aboliamo la Fornero, o finalmente mandiamo via gli immigrati, non so, quello che volete voi. No! Cosa fa? Il giornale di regime, perché così è diventato il fatto del nuovo regime, di che cosa si occupa? Lo strillone si occupa dell'opposizione, quindi l'opposizione che è più morta del governo, perché non mi dite che PD e Forza Italia siano in una buona forma, liberi uguali non esiste neanche, bene, invece di occuparsi del governo, si occupa della morte della Croce Rossa, va bene? Della Croce Rossa, cioè dell'opposizione. Ditemi voi se questa è una posizione che non dà il senso di quello che è il linea, che ci avrà il fatto, che ci ha abituato a fare il fenomeno con tutti, ma oggi riesce a fare il fenomeno soltanto con l'opposizione, che detto tra noi non conta nulla. Berlusconi dice che non voterà questa fiducia, e Pagnoncelli, i cui sondaggi sono un po' come quelli del mago Telma, ma insomma bisogna prenderli per buoni, come tutti i sondaggi oggi mi sembrano quelli del mago Telma, e non solo quelli dei Pagnoncelli, tutti quelli che faccio io, quelli che fa Tizio e Caio, però insomma dà il senso di quello che avviene. Il mago Telma, Pagnoncelli, Tecne, SVG, Noto, non so, citateli tutti, dice che la Lega sta crescendo tantissimo. Secondo Pagnoncelli al 28,5%, il Movimento 5 Stelle perderebbe un po' al 30,1%, Forza Italia sotto al 10%, il PD in crescita. al 19,2%. Buona notizia, incredibile, che dovrebbe farci venire i brividi, i brividi, ce la dà il messaggero in prima pagina, la Raggi sarebbe molto contento, addirittura ci sarebbe stata una ola, dicono in maniera sintetica al Compidoglio, perché ci sarebbe stata questa ola, perché Toninelli sarebbe diventato Ministro dei Trasporti, e quindi avrebbero potuto, e la Raggi vorrebbe chiedere al Governo centrale, 2 miliardi di Euro, 2 miliardi di Euro per mettere Roma a posto, soprattutto nei trasporti. Io dico, se questo è il modo con cui si comporterà questo Governo, e se Salvini dovesse far passare 2 miliardi per Roma, beh, veramente, vuol dire che le abbiamo viste tutte, il tutto è il contrario di tutti. Altre due notizie di giornata, oltre al Governo, perché il mondo continua ad andare avanti. La prima riguarda la PAC, che è la politica agricola comune. Sostanzialmente noi diamo dei soldi all'Europa, l'Europa ci dirà indietro dei soldi. Mi sembra che l'Italia dia più di quanto riceva per 6-7 miliardi all'Europa. L'Europa poi, che si è ingrandita, perché è diventata 27-28, e una parte l'ha persa, cioè un grande contributore come l'Inghilterra, l'ha persa perché non darà più soldi all'Europa, non ne riceverà ma non ne darà più, beh, insomma, deve ristabilire le quote come dare soldi a questo e a quest'altro. Bene, l'Europa cosa succede? Decide di tagliare per 2,7 miliardi nel bilancio che va dal 2021 al 2027, nei prossimi sette anni, l'agricoltura italiana. 2,7 miliardi di euro in meno. Poi dopo ho sentito l'altro giorno Tagliani dire ma invece poi avremo più soldi e fondi per la coesione. Allora mi viene in mente, Tagliani, ma tu non sei quello di centrodestra? Tagliani, tu non sei un liberale? Tagliani, tu non sei un rappresentante di Berlusconi all'interno del Parlamento europeo? No, perché forse non è chiara una cosa. Le politiche di coesione sono l'assistenzialismo, l'aiuto alle zone svantaggiate, gli aiuti all'agricoltura sono invece gli aiuti a una delle industrie principali di questo paese. Cosa preferisci? Il reddito di cittadinanza o la flat tax? No, mettiamoci d'accordo, perché i liberali fino a prova contraria preferiscono la flat tax, il reddito di cittadinanza. Quindi se tu tagli 2,7 miliardi di euro all'agricoltura, tu stai tagliando 2,7 miliardi di euro di aiuti concreti veri a una delle industrie fondamentali di questo paese. Chi cacchio se ne frega che prendi più soldi per la coesione, per fare i corsi di formazione della straminchia in Calabria, in Sicilia o anche a Monza, per cui non si risolve un cavolo. Forse saranno meglio dei soldi a un'industria esistente come l'agricoltura invece che queste minchiate di alla coesione. Oh no! Bah, forse non è chiaro. Questo però dà il senso di come l'agricoltura italiana in questo momento stia vivendo una difficoltà enorme visto come va, cioè bene, probabilmente la disattenzione nei suoi confronti è massima. Speriamo che il ministro futuro, prossimo, ci dia una mano a capire che questa battaglia è fondamentale. L'altra cosa fantastica di oggi sui giornali che poco hanno condiviso, per usare un termine internet, è il fatto che ieri la Visa, chiunque avesse una Visa in Europa non è riuscito a fare i pagamenti con la sua carta di credito. I titoli sono venerdì nero per la Visa. No! Venerdì nero per coloro che hanno pagato ogni mese per avere la Visa. Cioè, quando un circuito di pagamento non funziona, il problema non è tanto del circuito di pagamento, ma di chi paga il servizio e non ha nulla in cambio. Non è una notizia da nulla. Noi mettiamo i soldi in banca. Attraverso una moneta, una carta elettronica, facciamo i nostri pagamenti, questa carta elettronica è gestita dai privati. Se questi privati non riescono a gestire bene quel pagamento, anche per un solo giorno, si tratta di una cosa gravissima. Cioè, di un'inefficienza pazzesca. Siamo qua a farci tanto le pippe sul pubblico che non funziona, sullo speed che è una cavolata, eccetera, ma il fatto che questi qui non abbiano e non ci abbiano spiegato perché ieri non siamo riusciti a pagare con i nostri soldi, ma attraverso la loro carta elettronica, in Europa, non è una cosa che può essere lasciata così a una breve dei giornali. Insomma, io vorrei chiedere alla Visa Tok Tok, che vuol dire che avete avuto problemi di hardware? Tok Tok, perché io non posso usare i miei soldi quel giorno? Se io quel giorno vorreste voluto fare una Visa da 5.000 euro che era il massimo perché mi volevo comprare una cosa e mi dicono no, non le puoi usare i tuoi soldi, mi avrebbero violato la mia libertà di utilizzare la mia proprietà. Insomma, non è una cosa da niente, non è una cosa da niente. Dieci righe su tutti i giornali di oggi. Bene, io direi che per oggi è tutto, vi do appuntamento quest'oggi col sito nicolaporro.it domani una nuova zuppa, se vi piace questo video condividetelo. Ciao!